ciao amici e benvenuti in un nuovo video oggi vi voglio parlare di due prodotti di due creme una l'ho finita, l'ho usata, l'ho comprata prima di Natale, questa si chiama Brite, è una crema per il viso da giorno praticamente questa crema l'ho comprata, non voglio dire dove, l'ho pagata 50 euro, questa crema che è piccolina quanti minigrammi è? 100 ml? 50 ml piccolina, 50 euro e praticamente fa tanto come le creme del supermercato l'ho pagata, l'ho pagata però dire oh sì ho fatto una bella spesa, no non mi è piaciuta l'ho presa perché mi sono fatta attirare, l'ho usata tutta perché giustamente l'ho pagata e l'ho usata ma niente di che, niente di speciale, invece passando dalla parafarmacia della mia città c'era in vetrino una promozione di creme anti-age, anti-rughe, doppiazione eofidra, sì eofidra, costava 25 ed era in promozione a 12 euro l'ho comprata, l'ho messa qualche volta, una volta o due perché come vedete è nuova e devo dire che questa invece, adesso ne ho messa fin troppa, è molto valida, molto meglio di quella che ho pagato 50 euro, quindi questa qui lascia la pelle morbidissima, ci va un minuto perché assorba tutto perché rimane un po' oleosa e la parola sbagliata, però non è che si asciuga subito, rimane un po' così, poi invece si assorbe tutta quanta, ha un buon profumo, è un'ottima base per il trucco va bene sia di notte che di giorno, questa sì, questa ho fatto un ottimo acquisto spendendo molto molto bene, a volte si spende dei soldi credendo di far bene invece, tanti soldi credendo di far bene invece no, quindi questo è eofidra, è una cosmesin crema anti-rughe, l'ho presa in parafarmacia, profumatissima, buona, ecco vedete si è già assorbita, niente volevo farvi partecipare, volevo dirvi che ci sono ancora anche se pubblico poco, spero che continuate a seguirmi, intanto vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e ciao, a presto, ciao ciao!